La trama della nostra vita è fatta di intrecci che resistono alle incomprensioni, ai cambiamenti. Siamo fibre preziose, fragili se soli, indistruttibili quando uniti. Quando il mondo ci crollava addosso, tu ci facevi da scudo. Tu mi hai sostenuto su quella corda tesa. Quanto eravamo felici. E custodiamo sentimenti e speranze nell'abbraccio di un rifugio che è Salotto, che è casa. Doimo Salotti presenta Trame di vita. Guarda le storie di Rebecca, Andrea e Giulia su doimosalotti.it